Ciao ragazzi, ben ritrovati, questo qui è un video che faccio per recensire due prodotti che mi sono stati omaggiati da un'azienda, quindi si tratta di una collaborazione, però prima volevo ringraziare di cuore le persone che nello scorso video mi hanno consigliato le loro serie tv preferite del momento, io ho apprezzato tantissimo, ho annotato tutti i titoli e ho iniziato già a vederle un paio, quindi grazie infinite veramente, allora l'azienda di cui vi parlo oggi è Bangood, si tratta di un sito cinese che produce e commercia soprattutto articoli di tutti i tipi, da articoli tecnologici a accessori, abbigliamento e quant'altro ho un decor eccetera, per quanto mi riguarda purtroppo mi è stata data la possibilità di scegliere degli oggetti entro un determinato budget ma soltanto da alcune categorie, queste categorie se non erro riguardavano appunto una sezione della tecnologia sport, tempo libero e non ricordo cos'altro ma non c'erano gli accessori e l'abbigliamento, comunque ho gradito lo stesso chiaramente la proposta e ho accettato, premetto che la mia valutazione sarà assolutamente obiettiva, questi oggetti li ho ricevuti solo pochi giorni fa, quindi a parte uno che l'ho provato per vedere se funzionasse, non so dirvi la loro resistenza nel tempo, quindi sarà una prima impressione, anzitutto mi sono giunti nel giro di 10-15 giorni, si tratta di due articoli che mi sono arrivati in due pacchi distinti, imballati abbastanza bene e all'interno dei pacchi ho trovato un fogliettino che mi dice che ci saranno degli extra sconti nel mese di settembre, tra l'altro qui dice che usando questo codice 11-11-ANLV5 fino al 10 settembre si ha il 10% di sconto, quindi se volete utilizzarlo voi per me non ci sono problemi, no, no il 10% è 5$ di sconto su un ordine di almeno 50$, ad ogni modo la carissima ragazza che mi ha contattata mi ha detto che mi fornirà un codice sconto per chi intende acquistare, controllate nell'info box nei prossimi giorni perché ancora non lo possiedo e poi sempre nel pacco c'erano degli stampini con la scritta appunto il logo del loro sito banggood.com ok iniziamo con il primo articolo che l'ho tolto dalla busta per non fare troppo rumore e questo qua come vedete era imballato anche in una carta protettiva tipo plasticosa un po' tipo un polistirolo con la carta plasticosa morbida facciamo un po' di sticky sounds ok cosa sarà? chiaramente dei due oggetti vi lascio nell'info box il link diretto di modo che se qualcuno di voi o qualcuno di voi fosse interessato può reperirli immediatamente il primo oggetto in questione è questo qui vi direte ma cos'hai comprato una torcia? non proprio questo oggetto qua è sì una torcia ma è anche e soprattutto una cassa bluetooth e non che funziona anche da radio e adesso lo apriamo insieme così ve la faccio vedere nel dettaglio devo dire che la confezione era veramente affidabile qui troviamo questo pacchettino al cui interno c'è il cavetto per la ricarica almeno credo esattamente il cavetto usb è la presa che poi si collega a uno spinotto per ricaricarla poi troviamo appunto questo e voilà questa qui io l'ho scelta nella colorazione rossa ma c'era anche verde e turchese però mi sa che le altre colorazioni erano sold out altrimenti avrei scelto sicuramente il verde che è il mio colore preferito allora come funziona? anzitutto qui abbiamo la torcia quindi come vedete ora vi aggeco però che è veramente è potentissima ragazzi si può anche regolare perché abbiamo questa questa intensità un'intensità minore vedete un'intensità intermedia e poi si spegne quindi abbiamo tre diverse intensità poi come vedete qui ci sono l'uscita ci sono i fori d'uscita del suono qui c'è una tasca diciamo che si apre e qui abbiamo una porta usb per la ricarica un jack una presa jack che non so esattamente a cosa serva forse per per collegare un dispositivo o mettere su le cuffie perché come vi ho detto questa funge anche da radio e poi abbiamo la presa questa è la presa per la ricarica qui c'è una porta usb che non fa mai male forse per trasferire la musica non lo so e qui c'è un vano per la memory card perché si può inserire anche una micro sd e sentire la musica direttamente qui non so bene come funzioni però l'ho collegata via bluetooth al mio cellulare il collegamento è stato istantaneo e la musica si sente davvero bene una bomba questo accettino qui sviluppa un suono fantasmagorico quindi credo veramente di aver fatto un ottimo acquisto per quando si va fuori al mare o in campeggio o a fare un picnic e si vuol sentire la musica oppure semplicemente quando non si ha voglia di mettere le cuffie al pc ma si ha voglia di vedere una serie tv con un bell'audio forte ci collegate questo via bluetooth e senza avere ulteriori fili di mezzo si sente che è una meraviglia il prezzo di questa è di 16-17 dollari o è 16-17 euro e vi lascio il link giù nell'info box ok il secondo oggetto vi dico la verità l'ho preso per il mio ragazzo perché stavo avendo seriamente difficoltà a trovare qualcosa che mi potesse interessare non perché non ci sia roba c'era l'imbarazzo della scelta ma in queste categorie diciamo che io non riscontro tutto questo interesse quindi ho fatto scegliere qualcosa a lui e siccome lui ha proprio l'animo dell'esploratore mancato ha voluto prendere uno zaino di quelli militari molti tasche ideali appunto per il campeggio per il picnic ma lui dice che lo utilizzerà in palestra ora non so quanto sia attivente ve lo faccio vedere cercando di non fare troppo rumore l'ozione in questione l'abbiamo scelto nella colorazione sabbia diciamo ed è questo qui come vedete è fatto in una tela molto ropposta è pieno di tasche veramente abbiamo questa tasca anteriore qui c'è c'è questa che serve magari per mettere un telo all'interno il sacco a pelo poi c'è una tasca qui un'altra grande qua un'altra qua ora visto così sembra molto sottile mi assicuro che aprendolo diventa veramente una valigia io credo che questo possa essere assolutamente utilizzato per viaggiare come bagaglio a mano perché ci sta il mondo di roba guardate sapete quando prendete l'aereo è consentito solo il bagaglio a mano perché decidete di non portare il bagaglio da stiva ecco questo secondo me può essere può andar bene soprattutto per le vacanze estive dove abbiamo roba un po' più leggera bene comprate poi dentro naturalmente ha le sue come si chiamano? non mi viene il termine diciamo questo per metterlo sulle spalle qui c'è un altro gaggio fatto in questo modo e a lui è piaciuto tantissimo e anche a me devo dire anche se non è esattamente il mio stile il prezzo il prezzo di questo zaino è di 13-14 euro era disponibile anche nella colorazione beige molto chiara verde militare anche verde militare era molto carino anche di questo vi lascio giù il link nell'info box niente ragazzi io vi esorto a dare un'occhiata a questo sito perché ha prezzi davvero vantaggiosi io ringrazio nuovamente tutto lo staff per questa opportunità e mi auguro che oltre ad avervi dato qualche informazione vi abbia soprattutto rilassati vi mando un bacio e ci vediamo molto presto ciao